Io mi domando ma chi è che deve educare i figli? La famiglia o lo Stato? Cioè veramente abbiamo bisogno del ritorno dello Stato etico? La scuola può tornare a istruire e a dare ai nostri figli le competenze, anche i confini, per raggiungere quella che è la loro vocazione, per poter andare avanti, per diventare uomini. La famiglia è la commissione migliore per poter educare alla sessualità. Quando si parla di educazione alla sessualità spesso si parla di educazione alla genitalità, spesso addirittura educazione affettiva, educazione sessuale alle elementari. Quindi si impone il mondo degli adulti ai più piccoli. Noi abbiamo segnalazioni da tantissimo tempo in tutta Italia in cui quando si parla di educazione affettiva, di educazione sessuale si parla di aborto, si parla di gender, si parla di utero-naffitto, si parla di genitalità, si parla di usare il corpo dell'altro. L'importante è che tu godi, fai quello che ti parla, l'importante è che non rimani incinta. Ecco questo qua noi grazie non lo vogliamo. Noi siamo i famigli che sono obbligate a lavorare dalla mattina alla sera per poter portare un piatto di pasta. Cerchiamo di valutare una conciliazione tra la famiglia e il lavoro, che è molto importante, il diritto di libertà educativa. Non è che lo dice la RUIO, provvede famiglia, ma è la carta dei diritti dell'uomo, nella Costituzione. Perché? Perché gli stati totalitari usano l'educazione di Stato. Ecco questa noi non la vogliamo.